Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums! Oggi ho un pacco nuovo da scartare, arrivato da... non so se ve lo dico sinceramente da chi mi è arrivato, magari l'ho già scritto nel titolo, non lo so, non lo posso sapere, ma comunque questo è un pacco veramente molto interessante. Dentro si può immaginare che cosa ci sia dalla forma, però facciamo così. Allora, una cosa prima, per prima cosa vi ricordo di iscrivervi al canale perché tanti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti e questo è malissimo, ve l'ho già detto, dovete farlo assolutamente perché mi aiutate a crescere, mi aiutate in vari modi e poi oltre questo... anzi non mando ancora la sigla. Prima facciamo l'unboxing e poi vediamo. Allora, non mi serve oggi il coltello per fare l'unboxing, ma lo vorrei aprire bene, ma non ce la farò mai, quindi lo apro come sempre un po' a cavolo. Molto interessante questa cosa, molto interessante. Allora, per prima cosa... Ah, che fighe! Che fighe queste! Mamma mia, queste sono bellissime. Come si aprono? Così. I mallet, ragazzi, di Evo Drumsticks, perché le bacchette che mi sono arrivate oggi sono tutte di Evo Drumsticks. Guardate qui con la scritta Gas Tube Drums. Questa scrittina qua, scrittina perché il logo Gas Tube Drums è molto piccolo, ha un sacco di scritte piccole, ma devo dire che sono fatte veramente, veramente, veramente da paura. Quindi vi spiegherò alcune cose su questi mallet perché con i mallet si possono fare tantissime, tantissime, tantissime cose, quindi vedremo un po' di robe strane. Poi andiamo avanti, qui mi sa che mi serve il coltello. Dov'è? Anzi... Allora, vediamo che cosa c'è qui. Allora, sempre tutto marchiato Gas Tube Drums e questa è una figata pazzesca perché io mi intrippo tantissimo per queste cose quando mi arrivano. Allora... Vediamo cosa mi è arrivato. Allora, per prima cosa vi vorrei far vedere anche qui che è tutto marchiato Gas Tube Drums. Guardate che figata, cioè è veramente fighissima questa cosa. Tutte queste tre paia di bacchette che mi sono arrivate sono marchiate Gas Tube Drums. Eccole qua, queste bacchette sempre di casa Evo, ovviamente, sempre marchiate Gas Tube Drums. Anche queste ragazzi sono fatte perfette, cioè qualsiasi cosa gli mandiate a Evo Drumsticks ve lo può serigrafare, non so se si dica così, ma in maniera perfetta, veramente. Me le avevano già fatte una volta ma sono migliorate in una maniera pazzesca perché queste sono veramente fighissime. Allora, che bacchette mi sono arrivate e che bacchette vi spiego oggi? Per prima cosa? Queste cinque AB che sono delle bacchette che a me piacciono tantissimo. Dopo vi spiego... Allora... Così... Così... Che sono bacchette che mi piacciono tantissimo. Dopo vi spiego il perché mi piacciono così tanto queste bacchette. Mi sono arrivate delle cinque B. Eccole qui le cinque B. Poi mi sono arrivate delle cinque A. Eccole qui. Che cosa voglio spiegarvi? Voglio spiegarvi un attimo queste tre bacchette. Voglio farvi vedere alcune cose di questi mallet che vi ho fatto vedere prima e perché ho deciso di prendere queste bacchette. Perché praticamente queste sono un po' le bacchette più utilizzate in generale. Voglio spiegarvi il perché sono così tanto utilizzate. Voglio spiegarvi per chi vanno bene. Per chi vanno meno bene. Io quali ho scelto di queste tre paia. Quelle con cui mi trovo meglio diciamo. Quindi voglio spiegarvi tante tante cose. Direi che posso direttamente mandare la sigla e poi partiamo subito. Andiamo alla batteria. Voglio partire in realtà parlandovi del legno di queste bacchette perché non è per niente un legno normale. Non so se ci avete fatto caso oppure no ma questa tipologia di legno qua è molto più scura rispetto all'icori normale. Se guardate ad esempio i mallet che dopo vedremo vi farò vedere un po' di cose strane con i mallet sono molto più chiari rispetto a questo legno qua. Questo tipo di icori qua è sempre icori. Icori è noce. È sempre noce ma è la serie dark di Evo. Cioè cosa vuol dire? La serie dark è come vi dicevo sempre noce ma è un'altra parte di legno. In pratica è la parte più interna del legno e potrebbe sembrare uguale anche perché nelle mani non cambia così tanto. Forse è un filino più pesante ma non cambia così tanto ma il fatto è che è molto 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 più resistente come tipo di legno. E quindi già le bacchette Evo come sappiamo durano tantissimo. Adesso con questa tipologia di legno qua durano ancora di più. Poi tra l'altro io le ho usate già un pochino queste bacchette per provarle per poi poter vele spiegare e devo dire che anche come segni sulla bacchetta ce ne sono veramente veramente pochi. Nel senso queste Evo sono non lo so più più resistenti non si rompono e continuano comunque a mantenere il giusto feeling sullo strumento. Ho voluto partire in realtà da queste qui che non so non le vedrete mai. Lasciamo perdere troppo scuro. Sono le 5B. Devo dire che queste 5B io non uso così tanto 5B. Io di solito uso 5AB o comunque una via di mezzo tra 5A e 5B che come avete visto ho anche quelle lì quindi dopo ve le faccio vedere. Ma ho voluto partire dalle 5B perché devo dire che mi hanno stupito. Nel senso di solito sono molto pesanti le 5B e devo dire che queste non sono leggere. Però in mano con queste riesco veramente ad avere la sensazione di potenza quando devo andare a dare un colpo. Nel senso se io devo fare rock perché alla fine principalmente con questa tipologia di bacchetta si fa rock. Ovviamente non vi posso far sentire la sensazione che provo quando suono con queste bacchette ma devo dire che però è una bella sensazione. Quindi Molto potente e più che altro con questa punta fatta un po' ad oliva diciamo. Ad oliva un pochettino più triangolare perché è un pochettino più allungata. E questa però ci permette di avere un suono molto 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 potente quindi ottime queste 5B sono quelle che tra tutte mi hanno stupito un po' di più perché non mi sarei mai aspettato di essere qui a parlarvi di queste 5B in questo modo. Le 5B di solito non le uso quindi queste sono diverse sono diverse sono molto 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 belle. Adesso passiamo invece alle 5A. Le 5A sono un po' le bacchette per eccellenza sono quelle che utilizziamo abbiamo utilizzato diciamo tutti. Allora anche queste qua sempre i Nicoli nero serie dark che vi consiglio alla grande. Raga ve la consiglio tantissimo e devo dire che queste 5A ecco allora oggi ne ho una da dire per tutte le bacchette. Le 5A al contrario di quello che vi ho detto prima delle 5B ma in mano hanno una stabilità a parte che sono un po' più lunghe direi delle 5A normali ma hanno una stabilità completamente diversa delle 5A solite perché sembrano un filino più pesanti e quel filino che però ti permette di avere molto più controllo sulla bacchetta sia che noi andiamo anche a fare jazz oppure magari anche generi più tranquilli riusciamo comunque ad avere sempre un suono bello definito come potete vedere questa punta qua è sempre ad oliva ma diversa da quella delle 5B. Questo ci permette di avere un suono completamente diverso soprattutto sui piatti. Se io prendo una 5B e una 5A questa è la 5B di prima questa è la 5A sentite che comunque il suono è sempre abbastanza scuro perché è il suono dato dal legno ma in realtà come attacco ovviamente la 5B ne ha di più. La 5B è proprio un suono un po' più tra virgolette slabbrato. Questa qua è un suono un po' più definito che però può essere utilizzato sempre quindi se noi abbiamo bisogno di un filo meno di volume e un suono un po' più appunto definito allora 5A. Adesso andiamo a quelle che sono le mie preferite. Eccole qui le 5A B. In pratica le 5AB che cosa sono? Le 5AB sono delle bacchette che sono la metà tra 5A e 5B. Io mi sono trovato a un certo punto della mia vita a dire allora le 5A per me sono troppo piccole, le 5B sono troppo grandi. Che cosa faccio? Queste qua 5AB in pratica appunto sono tra le due quindi anche queste stessa roba stesso legno sono super 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 come bacchette devo dire perché riusciamo ad avere un po' il controllo verso le 5B del grande controllo e la potenza che avevamo prima ma senza dover avere una bacchetta grande e pesante. Queste sono una media quindi un po' meno delle 5B un po' di più delle 5A quindi per me sono perfette dato che comunque mi sono arrivati anche questi mallet fighissimi nel pacco di oggi ho deciso di parlarvene per due motivi il primo motivo è che vabbè no in realtà c'erano anche sulle bacchette ma ho deciso di parlarvene adesso cioè ve l'ho già detto un po' nell'intro di questo video ma per quanto riguarda la questione serigrafia nel senso voi avete la possibilità di fare il vostro logo sulle bacchette come in questo caso Evo Drumsticks mi ha fatto questo con Gas Tube Drums scritto sopra e la figata è che però non dovete avere già un logo personalizzato nel senso potete personalizzarvelo tramite il sito Evo Drumsticks quindi voi andate lì sopra ci sono una marea di simboli una marea di font con cui scrivere il proprio nome o quel proprio soprannome o quello che volete una marea di immagini da mettere lì sopra dei tamburi già disegnati eccetera eccetera ve lo posizionate come volete grandezza font cose varie e poi lo mandate in stampa ed è semplicissimo quindi è una cosa velocissima da fare ma è super super customizzabile oppure potete come nel mio caso anche mettere già il vostro logo e lui ve lo carica direttamente quindi vi darà alcune specifiche dovete stare attenti ad alcune specifiche ma è super super semplice se ce l'ho fatta io ragazzi ce la può fare veramente chiunque la seconda questione che vi voglio dire è che non ho mai parlato di mallet o non ho mai usato i mallet su questo canale la prima volta ma voglio un attimo spiegarvi il perché i mallet possono essere usati anche dei batteristi molto spesso si pensa che solamente i timpanisti o i percussionisti debbano utilizzare questo tipo di bacchette in realtà questi mallet che non sono altro che delle bacchette con in cima questo pompon di feltro il feltro è quello che si utilizza di solito anche con i battenti delle casse e in pratica ci permette di avere un suono molto 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 più molto più pomposo ad esempio se noi lo usiamo sul timpano o sui tom e se ancora non avete capito la differenza tra mallet e bacchette normale sentite sui piatti ad esempio sul ride sui piatti è un effetto veramente bellissimo e pensate ad esempio a fare il crescendo di piatti è molto 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 più armonioso come suono rispetto a una bacchetta normale è completamente diverso quindi se voi dovete fare un certo tipo di musica e magari in alcune parti di un pezzo avete bisogno di fare questa cosa qua e dovete solo andare a gestire magari il suono dei piatti fare dei colori eccetera eccetera i mallet sono perfetti in più se dovete anche fare cose tribali magari senza cordiera e poi come avete visto nel momento in cui devo andare sui piatti basta che colpisco con questa parte della bacchetta e diventa una bacchetta normale quindi fighissimo ovviamente non da utilizzare sempre però molto interessante e in più ultima cosa poi la finisco veramente questione feltro è molto duro rispetto anche a tanti altri tipi di mallet quindi ci permette di avere molto più rimbalzo quindi è molto più simile rispetto a una bacchetta vera di altri mallet che ho provato perché appunto è molto 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 più duro quindi ragazzi con questo direi che il video può finire qua io voglio ringraziare tantissimo evo drumsticks per avermi mandato queste bacchette fighissime devo dire che mi sono trovato veramente 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 benissimo perché già lo sapevo ma evo in generale ha un modo di creare le bacchette non so in che modo però praticamente aspetta che ne prendo di nuovo una però per prima cosa il feeling di queste bacchette è molto figo per la questione che abbiamo tre possibilità naturale laccata cerata e quindi ognuno di noi in base alle proprie esigenze può scegliere il tipo di finitura che vuole e questo è da tenere in considerazione perché cambia proprio totalmente ad esempio io con le laccate non mi trovo bene perché con le mani con magari il sudore quando si comincia a suonare tanto tendono a scivolarmi queste qua ad esempio le cerate o le natural vanno molto meglio però per quanto mi riguarda quindi il consiglio che vi do è cercate di fare un po' di prove perché così riuscite a trovare la bacchetta veramente che fa per voi e poi come avete potuto vedere la grandezza della bacchetta è veramente una cosa super 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 importante c'è chi si trova benissimo con le 5A, con le 5B, con le 5AB come ad esempio mi trovo io quindi fate un po' di prove io vi consiglio se avete la possibilità provatene un po' magari che ne so dite ok ne prendo qualcuna di un tipo o qualcuna dell'altro o qualcuna dell'altro tanto poi le bacchette alla fine si usano sempre questo è normale se poi voi scegliete le 5AB come ho fatto io ma avete un paio di 5B ancora lì da utilizzare le utilizzerete magari quando farete più rock o dovrete pestare un po' di più però alla fine non si buttano sicuramente le bacchette con questo io appunto voglio ringraziare ancora Evo per avermi mandato queste bacchette per avermele fatte con questo logo fighissimo che vi ho fatto vedere prima vi ricordo una cosa molto importante che qui sotto in descrizione io vi lascio un codice sconto che vi permetterà di avere il 10% su tutto quello che comprate se voi andate sempre nel sito che vi lascio qui sotto andate sull'e-commerce del sito scegliete tutto quello che volete nel momento in cui inserite il codice sconto avrete il 10% di tutto quello che state acquistando quindi secondo me è molto conveniente utilizzatelo non dimenticatevelo mi raccomando quindi io con questo la finisco qui vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti ve l'ho detto già ma ve lo dedico perché comunque è importante e basta noi ci possiamo vedere direttamente al prossimo video ciao